Direi che non è tollerabile che il Paese stia appeso a un videomessaggio che appunto viene rinviato di giorno in giorno. Il Paese deve affrontare problemi importanti, il Governo deve provare a dare una mano alle imprese, alle famiglie, ad uscire in una situazione difficile. Si sta discutendo dell'IVA, si sta discutendo della legge di stabilità, della service tax. Credo quindi che questo continuo balletto non faccia certamente del bene al Paese.